Il quartiere di Macchitella stamattina si è svegliato con una spiacevole sorpresa. Senza alcun preavviso, né segnaletica appropriata, buona parte di Viale Enrico Mattei è stato chiuso per dei lavori a ridosso del nuovo stabile che dovrebbe ospitare un esercizio commerciale entro pochi mesi su quello stesso Viale. Ho ricevuto, non dico decine, ma almeno una cinquantina di telefonate perché crea veramente dei problemi grossi agli abitanti di questa zona e che devono andare a casa per andare a mangiare e poi trovando questa strada chiusa che non avvisa neanche non solo gli abitanti ma quelli che vengono per smaltire il traffico all'interno del quartiere purtroppo trovano chiuso perché la viabilità non c'è nel senso di dire guardate che in via Enrico Mattei la strada è chiusa, cercate altre soluzioni. Qua arriva perfino il pullman questa mattina dovuto fare marcia indietro perché non lo sapeva, perché magari non li hanno avvisati e perché non ci sono le tabelle che dicono che questa strada è chiusa. Il timore dei residenti è che la strada potrebbe rimanere chiusa al transito veicolare per tutta l'estate creando disservizi all'interno del quartiere che verrebbe attraversato dai camion che di solito transitano sul Viale Mattei. Visto che questa è una strada a due corsie, una ad andare e l'altra a venire, almeno quella che c'è a sinistra di farla con doppio senso di circolazione, magari mettendo dei semafori e creare un beneficio alla collettività. Io spero che lo fanno, stiamo aspettando perché a giorni dovrei avere un incontro col sindaco per tutti i problemi del quartiere e spero che riusciremo a diminuire quelle situazioni che creano non solo fastidio ma che creano problemi grossi alla collettività. Il timore più grande che affligge tutti i cittadini e non solo i residenti del quartiere è che quel Viale è l'unico direttamente collegato con il punto di approvvigionamento utilizzato dai pompieri della città che dovendo fare dei giri più lunghi ritarderebbero il soccorso qualora fosse necessario anche a causa della movida che la sera anima il quartiere e che rallenterebbe ulteriormente i pompieri. L'ingegnere russo rassicura i cittadini che il disagio durerà solo poche settimane e che presto tutto tornerà alla normalità. Questa importante arteria, come la chiamano, praticamente comporta come qualunque altra cosa un attimino e fare un giretto di due, tre, quattrocento metri. Mi dica lei se con un cane, un mezzo, cosa può comportare due, tre, quattro, cinquecento metri. È un'emergenza, un'esigenza destinata a durare credo un paio di settimane. Tenga conto che non stiamo parlando di una chiusura di mesi ma di una chiusura a questione di qualche settimana e quindi di nuovo il tratto torna a essere usufruibile. Quindi se fosse stata per tutta l'estate ci poteva stare.